Musica Vediamo insieme quali sono i titoli dei quotidiani web regionali di oggi e partiamo da Olbia.it Evade dal campo Nomadi è stata arrestata una 33enne. Nella tarda serata del Santo Natale un carabiniere del reparto territoriale di Olbia, libero dal servizio, ha notato due donne a girarsi con fare sospetto nella via Massaccio del comune di Olbia e dopo essersi qualificato le ha trattenute sino all'arrivo dell'equipaggio della sezione radiomobile. In prima battuta le due donne hanno riferito dati anagrafici rilevatisi successivamente falsi, tanto che nonostante le false dichiarazioni fornite ai carabinieri, gli accertamenti effettuati hanno dato modo di appurare che una delle due donne, una 33enne montenegrina con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel campo Nomadi di Macomere e per tale motivo è stata tratta in arresto per il reato di evasione. Proseguiamo con Sassari Notizie. Sassari tratte dimezzate e voli cancellati. Domani, oggi, gli stati generali dell'economia del territorio. Le possibili riduzioni per i voli del 2016 da parte della più importante compagnia aerea low cost che opera in Sardegna rischia di consegnare scenari foschi per l'economia di tutto il territorio. Nasce con questi presupposti la convocazione degli stati generali dell'economia del territorio in programma per oggi, 29 dicembre, alle ore 10, presso la sede camerale di Sassari in via Roma. La nuova Sardegna, bronzetto nuragico in vendita a New York. La denuncia di Mauro Pili, frutto di scavi clandestini, rappresenta una sacerdotessa nuragica. Un pezzo rarissimo, refrutiva vera e propria, strapata agli scavi clandestini in vendita presso una casa d'aste americana per 18 milioni di dollari. Denunciarlo è il deputato di Unidos, Mauro Pili, che parla di un nuovo gravissimo atto contro la Sardegna e la sua storia millenaria. Il Latv.it, asinelli bianchi, uno studio li salverà dall'estinzione. Rischiano l'estinzione e sono protetti. Gli asinelli bianchi vivono allo stato brado nel paradiso terrestre dell'isola dell'Asinara, seguiti e accuditi dall'ente Parco. Nel novembre del 2015 è stata pubblicata una ricerca, ideata e realizzata dal totorando di ricerca Sardo, Valerio Gioe Uzzeri, che potrebbe salvare gli asinelli dall'estinzione. Cagliaripad Caprera scivola sugli scogli, muore turista milanese, 77enne. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Per i carabinieri della stazione di La Maddalena si è trattato di una disgrazia. La Maddalena da alcuni giorni, ieri mattina, Turatti ha deciso di fare una passeggiata in compagnia della moglie nella spiaggia di Porto Palma a Caprera. Si è poi allontanato dalla consorte per proseguire da solo l'escursione. La donna, non vedendolo rientrare, è andata a cercarlo intorno alle 11.30, lo ha trovato riverso sugli scogli esanime. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E concludiamo con l'Unione Sarda.it, tragedia a Capoterra, bimba di sei anni uccisa da una meningite fulminante. Giulia Baire aveva la febbre alta da qualche giorno. Domenica mattina la madre ha deciso di portarla all'ospedale Brozzo. Alle 18.30 la piccola è morta per meningite fulminante. Una tragedia per tutti, a cominciare dei familiari. La frazione marina di Capoterra è sotto shock. Gli analisi dei laboratori hanno già escluso il rischio di contagio. Non si tratta di infezione da meningococco. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Grazie a tutti.